Adesso vi spiego, se guardate in questa direzione vedrete che le case non hanno i balcone, perché qui c'è un canale, ma c'è ancora adesso, c'è un ristorante che si chiama la trattoria Bisbitto, che vi consiglio perché hanno il salame di Varzi, e lì c'è il giardino estivo che adesso non so se lo stanno usando ma lo devono riadattare per usarlo, c'è una botola e sotto passa ancora l'acqua per cui l'estate è bello freschino, quindi questo è un canale che c'è ancora, passa sotto, infatti se vedete le case non hanno i balconi, si è mantenuta la forma E cioè perché il balcone non ci sarebbe? Perché qui c'è il canale? Hai mai provato a buttare qualcosa dal balcone? A buttare qualcosa? Provare a recuperarla